ciao acquario è venuto sul mio youtube canale di italian style tarot bike che ci trovi venuto su questa lettura per la metà di febbraio 2024 ti chiedo acquario non far forzare questa lettura se non ti corrisponde questa lettura generale se una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio infobox se è una luna un sole un ascendente una vena un mercurio qualunque pianeta su questo segno questa lettura può far per te iniziamo acquario vediamo che succede e ti faccio ancora tanti tanti auguri acquario ma loft in datemi per favore per il mio acquario cosa quale si può aspettare giove idealismo e sotto il mazzo tu e sotto il mazzo ancora il leone che sarebbe l'opposto tuo giove no quello che spesa spende spende espande espande e espande allora sotto il mazzo di visionario e il giove c'è la cosa qualche ti sta cominciando no aprire un po anche non lo so anche la tua aura o la sensazione non so perché vediamo andiamo discontentamento e love begins inizia l'amore pazienza e pianificare sotto il mazzo il 7 4 e 1 un 5 ci sono già detto ti sta aprendo come io la sensazione che non si tratta più di visionare no di fantasticare ma di mettere le cose in pratica perché credo che come ti dici mi dai come l'impuzzi io fino adesso ho fantasticato sempre poi la vorrei mettere in pratica come faccio vediamo 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 come fai vediamo come dovresti fare vediamo ma loft in datemi per favore per il mio acquario il re di bastoni per il presente il focus tu la torre ricominciamo ricominciamo questa torre 5 di spade per il passato 5 di denari per il futuro il ragazzo di coppe per cose di ostacola il re di coppe per cosa non vedi così può aspettare il risveglio e la ruota e la fortuna che sarebbe giove ma che bello ma che bello che bello che bello il mondo toro 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 abbiamo il suvrano hai capito allora tu mi dici allora c'ho atto vabbè vabbè allora o leone acquario giove che sarebbe toro ancora toro e no sagittario perdone la ruota la si non mi sono impappanata la ruota e la fortuna e sagittario che è governato da giove o giove governa sagittario e il mondo toro allora di questi grandi pianeti no di questi grandissimi pianeti no che si tratta di urano giove e basta perciò c'è qualcosa qua che ti sta cominciando a sceccare no un po a scotolare però è importante perché il cambiamento c'è il cambiamento con la ruota fortuna c'è o vuoi o non vuoi c'è 5 di spade per il passato ti autosabotavi in qualche modo non so di che acquario adesso dici non mi interessa cosa pensa la gente non mi interessa quello che succede io vado prendo spacco nel momento nel verso giusto e il 5 di denaro per il futuro paura di perdere qualcosa qua o che veramente tieni tanto cose d'ostacolare il ragazzo di coppe non si tratta più di fantasticare ma di realizzare perché tu mi ritrovi qua e vedi coppe perché hai comunque un risveglio stai avendo un risveglio acquario vediamo non so di cose vediamo io la sensazione io ho la sensazione per l'amore però non so se l'amore per te stessa o per te stessa o amore per qualcun altro anche vediamo dammi il la ruota della fortuna per l'acquario 5 di coppe il cavaliere di coppe e la giustizia sotto in mazzo la stella che se anche tu allora sembra sembra c'è c'è in questo momento nella metà di febbraio non so perché me lo presenti così forte se non so neanche se sei tu può essere che sei tu acqua perché questa è la tua lettura come che tu stanno cambiando e stai cambiando la tua un po la tua mentalità o un gesto che vorresti fare e mi tu mi confermi come non pensavo mai di arrivare a questo punto io te lo posso anche dire perché stai arrivando a questo punto perché stai guarendo di qualcosa le acque sono calmate e tu mi dici io non pensavo mai di fare questo passo può essere anche un qualcuno verso di te metterla no open mind perché tu mi confermi si non pensavo mai ma mi fa male mi manca c'è una situazione qua che ti manca e non deve essere per forza romantico essere anche qualcuno di famiglia un'amica un'amica un parente non lo so tu dici non pensavo mai di fare questo primo passo o di far questo primo passo mi manca sta mancando un'energia qua non chiedi indifferente il cavalier di coppia non ce l'ho dammi il re di bastoni l'imperatore quattro di spade la torre per il focus e sono tre ancora la torre ma sta scherzando ancora la torre la quale sei tu allora sei tu non lo so cavoli no sto scherzando la torre gli amanti il cavalier di denari e il set di spade sotto il mazzo sì ma a me questo mi piace mi piace tanto la tua parte tu dici non posso essere no come si dice quella parola in italiano quando non posso essere merdiva aspetta un attimo opportunista si dice così non posso pretendere che mi è indifferente non opportunista non posso prete ecco pretendo non posso pretendere che mi è indifferente se non mi è indifferente per due andare all'azione però non sai come perché tu dici o così o cola ma io questa azione la faccio c'è un'azione qua che vuoi fare tanto mascolino eh non vuol dire che deve essere per forza un uomo acquario può essere anche che ti ritrovi con tanto maschietto no dentro di te tutti abbiamo gli ogni e gli anni perché tu dici ho aspettato troppo o sto aspettando troppo ma se è una cosa mi è importante me la voglio riprendere o me la voglio prendere ok dammi il 5 di denari per il futuro 4 di denari il ragazzo di spada e lotto di denari e la ruota della fortuna di nuovo ti vuoi aprire qua e quello mi piace anche perché ci sono delle cose che tu nel futuro capirai quando il momento giusto di intervenire tipo quando è giusto quando quando dovrei fare dieci passi indietro quando è giusto di fare a dieci passi in avanti tu cominci un po a capire anche un po il tuo carattere perché cominci anche a percepire come quando tu incominci a interagire o a secondo tu ti conosci così bene dici io allora mica mi conosco o so quanto quando reagisco in una certa maniera a un certo livello una cosa così mi è come che dici sì mi posso maneggiare mi posso controllare ecco lo so controllare dammi il ragazzo di coppe per l'ostacolo e di diventare seri wow ma il nostro è perché tu non sei serie acquario per carità è di una circostanza che veramente ci tieni dici no io posso essere anche serio in tutti i settori non solo nei settori che mi conviene a me sei di coppe la fiora fante è quattro di bastoni e la stella di nuovo sotto il mazzo o è il momento di diventare seri alte volte può essere non so se ti vedi così volte ti può essere che ti vedi un po infantile immatura ma noi matura di carattere di nuova solo cose di conviene a te però e ti fa poi se anche ti fa paura può essere che di prendere questo grande passo tanto mascolino comunque tanto maschietto qua dammi il re di coppe per cosa non vede l'acquario l'imperatrice 4 di coppe e 10 di bastoni vuoi perfezionarti è quello che mi piace acquario perché ti vuoi perfezionare per una situazione che ti è molto a cuore dice io io mi voglio matura mi voglio maturare voglio maturare voglio maturare voglio diventare grande voglio diventare grande voglio diventare grande in un giorno sapete quando ecco quei bambini che un quanto o quei no non so quelli come si chiamano gli addolescenti no quanto guardano è già nel futuro a io da grande ma io da grande vorrei ecco un bambino un bambino e bambino quando dico io da grande vorrei fare queste queste ci vorrà tanto tempo però quando poi ci si arriva nel te al tempo dice guardi indietro dice il tempo no non è successo è tipo in un giorno è successo tutto una cosa così mi viene che ecco da grande vorrei da grande farò o da grande io da grande diventerò una cosa così ma tu sei già grande non è spero che mi capisci però acquario tu dici per una situazione vale la pena diventare subito grande apprenditi se deve essere responsabilità ma risposta sono belle una bella cosa tipo come no io mi prendo il mio e questo quello che ti posso dare dammi il risveglio ecco il giorno che ti diventerò grande ti sposerò una cosa così sai quando i bambini parlano fanno questi giochetti o si innamorano dai bambini io quando sono grande io ti sposo che carino una cosa così mi viene non so perché mi viene così questo è anche un può essere anche un amore no di tanto tempo fa quello può anche non lo so mi viene una cosa così innaturale a dire ma è bella è non ti offendere acquario no in opposite è bella non so neanche se sei tu puoi essere anche al viceversa non lo so io io vedo questa è troppo bella sei di spade l'asso di spade sei di bastoni sì sì quando sono grande mi sposo quando sono grande io ti acciacquo e ti porto via secondo sì sì fantastica ma tu la metterai in azione se sei tu acquario lo metterai in azione ok dammi un consiglio per il mio acquario l'imperatrice la regina di bastoni e il 5 di bastoni il ragazzo di denari sotto il mazzo sì sì dammi ancora qualche minuto se sei tu o qualcuno ti vuole dare qualche minuto o qualcuno ti viene chiesto di questo minuto tipo aspetti finché sono grande mi dirò del mio mi farò da migliorare da fare due volte l'imperatrice acquario che sarebbe bilancio no l'imperatrice e con l'imperatore qua sanno cosa vogliono maturazione no vogliono tutto l'anno la vogliono la perfezione si prendono la sua responsabilità perciò qualcuno qua dice sì è certo che ti aspetto aspetta finché ammaturi o aspetto finché sarai grande una cosa così mi non so perché fatemi sapere voi acquario perché sono queste letture che sono ovviamente sono molto specifiche un like se ti è piaciuto noi ci vediamo domenica con la lettura domenicale per la settimana un caro saluto da Tulluan e ciao ciao